L'ultimo intervento programmato è della dottoressa Sandrini. L'ultimo intervento programmato è della dottoressa Sandrini. Anche la Presidente Tavassi hanno notato che c'è poco di nuovo quanto ai tipi di provvedimenti. Mi permetto solo di notare che quel poco di nuovo che c'è richiama un po' il diritto inglese. Troviamo questa specie di freezing order anche nell'ordine di ispezione che è comune a molti ordinamenti ma non avevamo nella direttiva. Ecco richiama un po' l'antompiller order, quello che adesso si chiama search order di diritto inglese. Quindi un po' anche di influenza inglese oltre che tedesca come diceva giustamente la dottoressa Ferrari. Perché queste aggiunte rispetto alla direttiva? Perché questo si dovrebbe configurare come un sistema completo. Cioè non c'è la possibilità di applicare anche gli istituti e quindi i provvedimenti, i procedimenti del diritto processuale nazionale. E questo è anche il motivo per cui le regole di procedura che si stanno studiando e preparando sono così ponderose. È un codice perché c'è un nuovo tribunale. E questo chiaramente ci mette di fronte a una bella sfida. Ricollegandomi invece a quello che diceva il professor Ricolfi, in questa distribuzione della competenza veramente complessa, trovo una norma nell'articolo 33 che mi piace moltissimo. È il paragrafo 2 che ci dice che se un'azione di contraffazione inclusa un'azione cautelare è iniziata presso una delle sedi, allora non può essere iniziata una azione di contraffazione inclusa a quelle cautelari in un'altra sede. E questa norma mi piace perché in pratica cosa ci dice? Che se introduco una domanda per un'inibitoria cautelare davanti a una delle sedi, mi vincolo a introdurre lì il merito. Questa lettura viene poi confermata nelle regole di procedura come sono adesso. E mi piace perché io ho sempre ritenuto che questa fosse la lettura corretta, l'interpretazione migliore, più funzionale, non corretta, più funzionale, anche nel sistema Bruxelles 1 e poi nel sistema Bruxelles 1 bis. L'ho sostenuto con molto poco successo, forse non lo è in quel sistema dove sono tribunali nazionali, qui abbiamo un, scusate, tribunale unico, unificato, e quindi è più facile arrivare a cogliere questa suggestione che era stata già avanzata anche dalla nostra Cassazione, che poi però è tornata indietro sul fatto che il cautelare radicasse anche la competenza per il merito. Velocissimamente, quello che mi sembra poi confortante anche dall'opinione del professor Baratta, con cui ho avuto un breve scambio, una grossa novità è sulla circolazione delle sentenze. È un tribunale unico per tutti gli stati e quindi non c'è più bisogno di riconoscimento ed esecuzione e non di procedimenti di riconoscimento ed esecuzione e non come nel regolamento Bruxelles 1 bis dove si sono spostati i motivi per opporsi alla domanda di esecutività di una sentenza originaria di uno Stato in un altro Stato alla fase dell'opposizione all'esecuzione. Ma qui veramente le sentenze e anche quei provvedimenti cautelari che saranno adottati da una delle divisioni saranno eseguite come sentenze nazionali salvo poi avere sorprese nella versione definitiva delle regole di procedura. Mi sembra veramente un passo avanti soprattutto nella tutela cautelare dove c'è questa esigenza di celerità. Anche quelle adottate in audita altera parte. Non lo so se per quanto riguarda la tutela della proprietà industriale questa possibilità è così importante come in altri settori della tutela della proprietà intellettuale. Perché adesso magari la Presidente Tavassi mi smentisce immediatamente ma mi sembra che siano rare le ipotesi di adozione di un provvedimento inaudita altera parte in materia di proprietà industriale quantomeno la nostra prassi milanese. Magari in altri Stati è diversa. Ancora un'ultimissima cosa modifica il regolamento Bruxelles 1 bis per adeguarlo a questo nuovo sistema pochissimo con riguardo ai provvedimenti cautali si prevede che il foro esorbitante possa essere invocato anche quando è competente il giudice di uno Stato terzo. Secondo me non è un vantaggio perché questa è una norma permissiva che porta con sé le limitazioni cioè che permette di adottare di utilizzare i titoli di giurisdizione nazionali con le limitazioni poi che la Corte di Giustizia man mano ha aggiunto con la sua giurisprudenza. Forse era meglio lasciare semplicemente l'opportunità di utilizzare le norme di giurisdizione nazionale o dotare di una norma di giurisdizione apposita questo tribunale unificato che si va creando ma così è una prima impressione con cui vi lascio. Grazie, buonasera.